Ciao, sono Roberto Prandin, vengo da Mestre, gioco PlayGuardia e quest'anno ho giocato nel Ryder Venezia. La stagione è andata bene perché siamo stati promossi in A2, è stata un'esperienza bellissima, ho giocato tanto e niente. Poi sono stato convocato con la nazionale e questa tournée negli Stati Uniti, per me anche questa è un'esperienza bellissima, una grande opportunità. La prima partita non è andata benissimo perché come vedete mi sono fatto a male al mento, 5 punti e niente, spero la prossima partita di giocare e di far bene. Ciao, sono Bruno Cerella della Magventi Potenza, vabbè sono argentino con doppia cittadinanza e quest'anno sono stato convocato per la nazionale Under 22, che è una bellissima esperienza. Niente, sto con questa squadra, ho pure fatto un raduno con la nazionale A di Carlo Regalcati e sono molto contento, un anno di crescita e mi auguro bene per questa squadra. Ciao a tutti, sono Giacomo Mariani, quest'anno ho giocato a Fossombrone con la Bartoledon Dapp, siamo arrivati al gioco playmaker prima di tutto e siamo arrivati ai playoff, dopo un anno un po' travagliato e conoronato finalmente a fine dell'anno questa bella esperienza con la possibilità di venire qui negli Stati Uniti con la nazionale LNP a misurarci con dei ragazzi statunitensi, grazie coach. E niente, adesso ce la vedremo un po' con questi americani e speriamo di fare bella figura, di rappresentare al meglio il nostro paese.